Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati a parlare di Buffy l'Ammazza Vampiri. Presto a novembre uscirà la stagione 10 a fumetti di Buffy l'Ammazza Vampiri. Perché dico la stagione 10? Perché Buffy, se non lo sapete, è una serie tv anni 90 nata dopo il film del 1992, pessimo tra l'altro, diretto sempre da Joss Whedon. Joss Whedon però non credeva che la sua idea fosse davvero così pessima e così ci ha creato una serie tv nel 1996-97. Questa serie tv è stata uno dei successi, uno dei cult degli anni 90 e conta ben 7 stagioni. È finita nel 2002 con la settima stagione per quanto riguarda la serie tv. Ma poi la serie è canonicamente continuata con le stagioni 8, 9 che sono state pubblicate anche in Italia e poi 10, 11 e 12 per concludersi proprio totalmente. Ma queste tre stagioni, scusate 10, 11 e 12, queste tre stagioni non sono state pubblicate in Italia. Non sono state pubblicate in Italia fino ad ora. Adesso, a novembre, finalmente verrà pubblicata la decima stagione. Sempre dalla casa editrice Saldapress, la stessa casa editrice che sta tuttora pubblicando il reboot di Buffy ambientato in questi anni, negli anni 2020 per così dire. Di cui ho recensito qualche numero ma francamente non mi è piaciuto abbastanza, non mi ha preso abbastanza. Vi metto comunque qua nelle schede, qua in descrizione, il link ai video dei pochi numeri che ho recensito. Però sono molto felice che probabilmente anche grazie al successo di questo reboot a fumetti Saldapress abbia deciso di pubblicare la decima stagione. Però c'è un piccolo problema. Molti, ho notato, si stanno lamentando che però la Saldapress non ristamperà la stagione 8 e la stagione 9 di Buffy. Quindi ne deduco che queste persone non abbiano la stagione 8 e la stagione 9 di Buffy. E di conseguenza non sappiano cosa sia successo tra la stagione 7 e la stagione 10 che uscirà a novembre. E qui intervengo io, che cercherò con qualche video di spiegarvi cosa succede in queste due stagioni. La stagione 8, manco a dirlo, è composta, era composta, da otto numeri di queste dimensioni. Vi faccio vedere, proprio se siete appassionati, anche le copertine ufficiali come erano. Poi all'interno ci sono anche delle fantastiche copertine che non credo di poterci fare stare tutte in un video. Quindi magari possiamo fare delle live su Twitch eventualmente, fatemelo sapere. Magari anche su YouTube non c'è nessun problema. Per arrivare consapevoli direttamente al 18 novembre, giorno in cui uscirà la decima stagione di Buffy. Tra l'altro uscirà in contemporanea a Ghostbusters Legacy, Ghostbusters Afterlife. Quindi ovviamente recensirò prima Ghostbusters perché farò prima a fruire di un film che non di un fumetto. Questo perché? Perché a differenza di come erano composte queste pubblicazioni, la salda pressa farà dei volumoni di 272 pagine, alla modica cifra di 29,90 euro. E non sono sarcastico perché se ci pensate i fumetti del reboot con copertina rigida costano poco meno, costano credo 19 euro, ma hanno molte meno pagine. Quindi io mi aspetto che la stagione sia tipo fatta in questo modo. Uno, due e tre volumoni. Quindi con tre volumi da 29,90 ci portiamo a casa tutta la stagione 10. Dopo la stagione 8 di Buffy esce la stagione 9, di Buffy con un nuovo spin-off. Lo spin-off si chiama Angel e Fate. Poi, tranquilli, vi spiego il perché di tutte queste cose. La differenza è che la stagione 9 di Buffy non conta 8 volumi, ma ne conta appena 5. E il numero di pagine sono le stesse, quindi semplicemente è una stagione più corta, se così vogliamo intenderla. Oh, è come se la stagione 8 fosse molto lunga, e poi vi spiego perché la intendo così. Ad ogni modo, se notate che li ho messi in ordine cronologico, non mancano gli spin-off. Appunto ci sarà Buffy stagione 9, volume 1, Angel e Fate, volume 2, volume 1, Buffy stagione 9, volume 2, Angel e Fate, volume 2, e così via. E poi c'è anche un unico numero di Willow e un unico numero di Spike. Questo è tutta la stagione 9. Era pubblicato dalla edizione BD. Capite che io con tutta la buona volontà non posso farmi un ripasso di tutti questi volumi e farvi un video da qui fino al 18 novembre. Dovrei fare solo quello, contando anche il lavoro, e comunque non credo di farcela. Quindi probabilmente farò un video riassuntivo della stagione 8, un video riassuntivo della stagione 9, un video riassuntivo dello spin-off Angel e Fate, e magari un video in cui parlo del one shot di Willow e di Spike. Però appunto, ripeto, se vogliamo fare delle live in cui vi parlo in maniera molto più espansa di questo mondo, possiamo tranquillamente farlo. Ma ora veniamo al succo del discorso. Io non posso parlarvi della stagione 8 di Buffy senza parlarvi di Angel e della stagione a fumetti di Angel che è ambientata dopo l'ultima stagione della serie TV Angel. La serie TV Angel è la serie spin-off di Buffy che dopo la terza stagione prende una via indipendente dalla serie madre. Quindi in contemporanea con la quarta stagione di Buffy avremo la prima stagione di Angel e così via fino alla settima stagione di Buffy che sarà in contemporanea con la quarta stagione di Angel. Dopodiché Buffy appunto finisce, ci sarà la quinta stagione di Angel che non è in contemporanea con l'ottava stagione di Buffy, sia ben chiaro, e dopodiché ci sarà Angel dopo la caduta, Angel After the Fall, che purtroppo ha una rovinosa pubblicazione in Italia, non per colpa di Italy Comics che anzi, grazie a loro, ci hanno portato dei volumi spillati esattamente come quelli americani tradotti in italiano. Giustamente la Italy Comics ha semplicemente pubblicato Angel After the Fall, Angel dopo la caduta. Vi faccio vedere anche qua le fantastiche copertine, i fantastici disegni disegnati da un italiano, da Franco Urru. Questo è il volume 1, volume 2, volume 3, con Illyria, volume 4, con tutta la gang, volume 5 e volume 6 che si mettono insieme in questo modo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Guardate che figata. Il volume 7, il volume 8, il volume 9, il volume 10, il volume 11, questi sono tutti degli spillati di pochissime pagine. Francamente, allora potreste anche trovare dei brossurati, dei cartonati, ma li trovate solo in inglese. Se volete tutta la serie completa di Angel a Angel After the Fall, ci sono solo volumi in inglese. In questo vi può aiutare Wikipedia. Se voi andate a vedere su Wikipedia Angel dopo la caduta in italiano e Angel After the Fall in inglese, vi accorgerete di come appunto in italiano ci sono molti meno numeri. Questo perché dopo After the Fall hanno continuato a pubblicare diverse miniserie di pochissimi numeri. Questo è solo un video introduttivo e magari qua in descrizione vi metterò i vari video, una volta che li avrò fatti, che vi porteranno alla serie a fumetti dedicata. Vi posso solo dire che più o meno per quanto posso dirvi in ordine cronologico, senza fare troppi spoiler, appunto Angel stagione 5 è indipendente, quindi non c'è nessuna stagione di baffi, non c'è la 8. Angel stagione 6 è indipendente, non c'è nessuna stagione di baffi, non c'è la 8. Una volta che tutto il ciclo di Angel After the Fall finisce e finirà con Angel the Wolf, the Ram and the Heart, quindi la Wolfram and Heart, quindi il lupo, l'ariete e il cervo, che appunto sono i simboli dei tre demoni antichi che hanno istituito la firma di avvocati Wolfram and Heart. Dopo tutta questa chiusura della serie a fumetti Angel, canonica e post quinta stagione di Angel, potete considerare la lettura dell'ottava stagione di baffi. Viene ambientata dopo questi eventi. Siete obbligati a leggere la sesta stagione di Angel che è introvabile in Italia per potervi godere l'ottava stagione di baffi? No, però vi basti sapere quello che vi ho detto. Vi basti semplicemente sapere che tutta la stagione 6 a fumetti che inglobiamo nel nome Angel dopo la caduta va considerata prima della stagione 8 di baffi. Tenete a mente questo e godetevi la lettura della stagione 8 di baffi o se non trovate i fumetti godetevi i miei video dove cercherò di spiegarvi cosa succederà nella stagione 8. Vi dico solo che dal momento che non c'è il budget limitato di una serie tv ma c'è la sconfinata fantasia e capacità dei disegnatori ne vedremo assolutamente delle belle. Ne vedremo assolutamente delle belle al paragone di un film hollywoodiano ad alto budget. Grazie per avermi seguito fino a qua in quello che è un video introduttivo io poi cercherò di far uscire questo video in contemporanea anche con il video di Angel After The Fall in modo che se volete ve lo potete godere subito oppure ve lo potete guardare in un altro momento. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e a tutte le slayer in ascolto mi raccomando be strong! Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!